Veloce a WebT1, qui a Miladomi. Max, grazie a tutti. Abbiamo visto che c'è tanta bella gente, ci siete voi, quindi fare un'occasione migliore per parlare con la gente. E nel tuo trascorso io volevo raccontare qualcosa a noi, che canti? Sarebbe un po' troppo lungo da raccontare, 20 anni di cose. Dai, ne parliamo dopo io e te da soli, dai. Era una curiosità da dare ai nostri amici da canti. Sì, sono cambiate le cose, ragazzi. Sono cambiate le cose? Sì, non si fa più quello che si faceva una volta, per chi conosce il genere, quindi... Quindi quel genere di produzione ormai non tira più. Sì, ma non come una volta, quando si faceva un film con storia, con regia, con... Capisci, adesso è tutto... È troppo brutale, probabilmente. È la camerina piccola e si parte tutto. E giravamo in pollice, in... Prima era un film, diciamo che prima era un film. Assolutamente un film, con storia e la gente che lo faceva credeva anche di essere... Ma che sai, se dovessi riavvolgere il tuo nastro, quel genere di spettacolo, il genere di produzione, la faresti ancora? Certo, sono degli anni meravigliosi, perché no, anche perché... Quindi riavvolgerei sempre il nastro, tutto quello che ho fatto, sono contento che l'avevamo fatto. E i tuoi prossimi progetti, per il futuro? Quindi oltre a questo della fiction che stai preparando? Sì, un film raggirare, già iniziato con la settimana di riprese che vi fa, si chiama... Il film del Madre, con Antonio Zecchira e il Costantino Lombardo Ficciano, un attore calabrese che abbiamo visto ultimamente, e il famoso mutante Antonio Zecchira, con la parte di un assassino. Bene, grazie, buon lavoro. Ciao, buona serata.